A tutti da Colonnello, buongiorno, visto che ormai le dico la stampa è partita, andiamo avanti. Allora, incomincio subito con una cosa, buona colazione a tutti, a tutto il mondo, a tutta la parte della terra. E poi, una cosa, oggi pomeriggio il Colonnello sta di nuovo nella capovolta, dalle due e mezza, con Gianni Ciardo. La puntata di ieri, se volete vederla, la potete vedere mettendo, mi piace la pagina, la capovolta. Verso le dieci, dieci e mezza, esce. Una cosa al direttore di Matera, il segnale è qua, due sono le cose. O mi stavano venendo tutta fatta, ma ti ha scoppiato. E quindi va in alternanza, ma c'è e ma non c'è. E nel frattempo che il Colonnello saluta a tutti, anche a Vivi Monopoli, che oggi e stasera verranno a trovarmi, e a tutti quelle testate giornalistiche mondiali, internazionali, dell'universo globale, che comunque perdono cinque minuti col Colonnello, io vi ringrazio. Ringrazio a tutti. E per i momenti è tutto vero, sto ancora sognando, sto ancora in tv. Ma oggi tocca all'uomo gatto, mentre mi faccio il bicchiere. Io ti dici l'oroscopo, vai con l'oroscopo, via! Buongiorno amici. Vuoi salutare, vuoi presentarti, vuoi... No, voglio solo dire, auguro una buona giornata a tutti i fans del Colonnello e dell'uomo gatto. Oggi faccio le veci del Colonnello alla rassegna stampa e andiamo avanti con l'oroscopo. Pesci, alcuni contrasti planetari, quelli di Giove e di Saturno, attraversano il vostro cielo. Forse non sarà tutto facile o filerà per il verso giusto. In pratica dovete avere molta pazienza. Per coloro che lavorano, i soldi non li portate più alla banca, ma conservate di sotto il mattone. Perché? Perché dice che in alcuni momenti ci sarà d'altre ingeridenti. Giusto. Chi vive una vita di coppia e non mangia i pasticcini, non può salire sulla giostra. Giusto. Ci sarà una forte complicità ad uscire dall'atmosfera abitudinaria. A quanti minuti stiamo? Siamo quasi al termine. Fantasie da inventare non vi mancano. Buona giornata dalla sede del Colonnello. Comunque. A domani per la nuova rassegna stampa. Tu puoi fare un biglietto a voi Pietro. Chi sei Pietro Secondo? Oh, grande Pietro. Grande amico mio. Pietro Secondo e poi sta Maurizio Delle Selva. Ah, Maurizio Delle Selva. La domenica ce la facciamo sempre. Ah, devi andare. No, no. Maurizio Delle Selva è quello che sta in Svizzera. Pietro Secondo è quello che sta a Monce. Ah, e come si mettono in contatto? Tramite internet. Ah, ok, 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 ok. Ma l'amico? Sì, quello che fa il mio barbiere là. Il barbiere di Siviglia. Un'altra cosa. È su Sky Young. 519 sono ingrumpiti i computer. Tutti i nomi. Pee, pee, pee. Io lo stavo vedendo e usci la scritta. Segnale debole. Eh, dici, pauguri. Non è, ne volte stai bravo. Non è che puoi vedere. Però oggi, carica. Carica sempre. Leo, salutiamo tutti. Allora dobbiamo salutare a tutti i monopolitani che stanno in tutto il mondo. A tutti i monopolitani che sono al nord Italia. A tutti i monopolitani che non hanno la possibilità di vedere il nostro mare, il nostro centro storico, il nostro modo di vivere. Perché la mentalità di mare, se non stai sul mare, non la puoi avere. Giusto, coronel? Io invece saluto le mie tre televisioni private del colonnello. Telerinco, che è la prima televisione. Teletraversa, che è l'altra televisione che anche mi mette sopra YouTube. E a Telecionno di Monza. E insieme ai nostri amici. Purtroppo si chiama Telecionno, bambino di Arirab. Però se state le Cionno TV tengono anche le magliette. Ma il ciondo, poi è sempre il ciondo per vedere chi ha. Comunque, un saluto a tutte e tre le mie testate. Buona giornata. Non lavorate troppo. Stigio, bro. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.